Inutile guardare Ben 15 volte in poco più di un anno e spesso nello stesso punto sono le rotture ed i conseguenti interventi delle squadre dell'ASET per ripristinare il guasto ma la conseguenza è che per intere mattinate come quella odierna gli abitanti rimangono senza acqua e con una marea di disagi oltre che a garage allagati e toppe che non tengono e che si sfaldano spesso e volentieri L'acqua che esce dai rubinetti dopo l'intervento è scura ci dicono e come mostrano anche le immagini che ci danno segno dicono loro che lo spurgo della condotta non è stato fatto La speranza è che questa situazione presto venga sanata Allora siete molti qui oggi pomeriggio, siete tutti accomunati oltre che dalla stessa strada, dallo stesso problema Cosa si verifica qui da un po' di tempo a questa parte? Da un po' di tempo a questa parte abbiamo continuamente problemi nel lavarci la mattina presto perché dalle 6 della mattina spesso e volentieri non c'è più l'acqua si rompe la conduttura e noi ci ritroviamo con dei camion enormi davanti a casa che con una ruspa vengono a romperci in marciapiede e l'acqua non arriva per 3-4 ore non c'è e quello che ci disturba è che la rottura è troppo frequente 15 volte nell'arco di un anno e mezzo cioè consideriamo una volta al mese noi abbiamo questo problema Cioè la caldaia è già la terza volta che cambia in tre anni lo scambiatore e quel tecnico della Tecnogas mi ha detto non è possibile che lei ha detto non è colpa nostra adesso verificheremo ha detto però lo scambiatore ha detto deve essere un problema di acqua e infatti ogni volta che si apre l'acqua viene giù praticamente indecente proprio non è possibile vedere una cosa del genere Ma sono anni che noi siamo soggetti a questi problemi il mattino dobbiamo andare a lavorare, dobbiamo andare a scuola e quindi non è possibile che ci ritroviamo ogni 15 giorni perché ultimamente è ogni 15 giorni con queste rotture questa mattina dalle 8 e mezza l'acqua è tornata alle 12 e mezzo dove l'acqua del rubinetto era marrone nonostante il tecnico dell'ASE le abbia assolutamente detto che non era possibile che l'acqua scorresse dal rubinetto sporca invece è sporca perché è marrone ma è il problema della conduttura dell'acqua Quindi vorreste che la cosa fosse messa a posto una volta per tutti Esatto, sì esatto, che si prendessero dei provvedimenti seri e non tampone ogni 15 giorni ci ritroviamo anche con i garage allagati perché qui si sono allagati anche tutti i garage Un giro di 50 metri 50 metri se lei guarda ci sono gli interventi ogni 15-20 giorni cioè è assurdo È successo ripetutamente, reiteramente anche nello stesso posto Nello stesso posto, cioè se si guarda l'asfalto e si vede che è stato fatto il lavoro non si pensi che sia un unico intervento è 3-4 volte che arrivano sempre nello stesso posto nello stesso giunto nuovo rimesso che riparte l'acqua, riesce da fuori, che sgrotta sotto non si spiega Non si spiega